È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Prima di essere avversarie delle due milanesi nel prossimo turno di Serie A Team, Atalanta e Sassuolo si sfidano in Coppa Italia. In palio i quarti di finale. E poi sul palo. Vengono. Passa a rientrare. Stacca! Toloi! Solo l'Atalanta è in campo nel primo tempo, ma il Sassuolo non è ancora domato. Hipolitano sul sinistro. Arriva anche Gazzola. Gazzola a corso basso! L'assalto dei nero-verdi non è sufficiente per riequilibrare l'incontro. L'Atalanta stacca il pass per i quarti di finale di Team Cup, a dieci anni di distanza dall'ultima volta.